Sono appena stata dai carabinieri perché ho dovuto sporgere denuncia. Immagini del genere non le avevo mai viste prima. Le immagini sono proprio in questa chiavetta che ci ha consegnato un informatore riguardano due allevamenti intensivi in Emilia Romagna in piena zona di restrizione per peste su in Africana. E sono molto forti, vediamole insieme. Topi che camminano sulle gabbie delle scroffe, camminano sulle scroffe fra gli animali nel loro mangime e i topi rappresentano un problema enorme per la biosicurezza, possono portare malattie fra cui la peste su in Africana all'interno dell'allevamento e invece qua sembra una terra di nessuno. E qui un'altra situazione gravissima per la biosicurezza. Ci sono decine di suinetti morti all'aperto che hanno lasciato nella benna del trattore parcheggiato fuori dai capanni, quindi alla merce di qualunque animale. Infatti vediamo che c'è un topo lì che aspetta probabilmente di fare incetta di queste carcasse. Questo è gravissimo per quanto riguarda la biosicurezza. Questi suinetti dovrebbero stare in una cella a frigo in attesa di essere portati via dall'allevamento, non all'aperto. Ecco, qui ci sono i suinetti che sono lasciati così nei corridoi. Dovrebbero in realtà stare nei recinti, ma visto che questi sono già pieni li lasciano nei corridoi perché gli allevamenti nelle zone di restrizione non possono spostare gli animali al di fuori delle strutture. E quindi visto che non c'è lo spazio li mettono dove capita creando ulteriore sovraffollamento. E sul pavimento vediamo feci e urine in maniera molto abbondante mentre l'igiene oggi dovrebbe essere la priorità numero uno proprio perché c'è la peste suina africana. Ma qui arriviamo a questa cosa sconvolgente. Ci sono tantissimi suinetti morti che stanno insieme ai suinetti vivi e alle scrofe. Sembra che non li raccolgano da giorni. Dovrebbero raccogliere i suinetti morti quotidianamente. Qui vediamo dei suinetti che sembrano addirittura mummificati. Ma c'è ancora la placenta. Queste scrofe da giorni che hanno partorito, la placenta è ancora lì, nessuno l'ha raccolta con i suinetti morti incastrati dentro. È una cosa che io personalmente non avevo mai visto prima. Questa è una cosa veramente sconvolgente. La scrofa ha dovuto partorire in zona di gestazione, quindi non nel luogo solito della gabbia, della maternità. Nella zona di gestazione, nel corridoio. E quindi si vedono questi suinetti lasciati lì. Qua c'è un suinetto vivo incastrato nella griglia che si sta ancora muovendo, probabilmente morirà a breve. Proprio perché questo non è il luogo indicato dove la scrofa avrebbe dovuto partorire, ma l'hanno fatta partorire lì, probabilmente perché non c'era più spazio da nessun'altra parte. Questi sono solo due allevamenti, ma noi abbiamo ragione di credere che ci siano tanti allevamenti in queste condizioni, nelle zone di restrizione. Tant'è che il nuovo commissario straordinario per la peste suina ha fatto un'ordinanza per chiedere di analizzare caso per caso questi allevamenti in zone di restrizione ed eventualmente autorizzare la movimentazione degli animali. Quindi noi facciamo un appello, proprio perché questa è una questione urgente, e di analizzare caso per caso per evitare di aggiungere sofferenza alla sofferenza già presente all'interno degli allevamenti intensivi.